Samuel, tu non mi riconosci, vero? Oh, ma sì, 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 Christine. Christine di Berlino. Di Londra. Con il tuo bambino. Lei si chiama Gloria. Buongiorno, Gloria. È tua figlia. Christine! Hai dimenticato le tue cose! Posso chiederle una cosa? Diciamo di sì. Lei mi può salvare la vita. Con molto piacere. Non siamo un po' troppo attaccati. C'è chi apprezza. Lei che cosa cerca? Devo ridare una bambina alla madre che lavora da queste parti. Quale bambina? La bambina che ho... Porca miseria! No, 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 no! Che frey! Eccomi. Sono qua. Lo stuntman è un mestiere d'oro. Si fanno un mucchio di soldi. Non cerco un lavoro, cerco sua madre e poi torno a casa. L'hai detto! Gloria, che stai facendo? E ora come faccio a pulire tutto? Scusa! Papà, svegliati. Sei immortale. Boo! Boo! Ho i risultati degli esami, Samuel. La terapia non sta funzionando. Andrà tutto bene, vedrai. Voglio che stiamo insieme tutta la vita. Ciao!